Una situazione paradossale alla vigilia di Campobasso Salernitana, in grado di mettere in dubbio l'utilità della tessera del tifoso, che dovrebbe agevolare gli ultra ed avvicinarli allo stadio e che invece ha da sempre creato problemi. Nella giornata di ieri, infatti, sia la prefettura che la questura di Campobasso hanno comunicato l'impossibilità di vendere i tagliandi del match ai tifosi sprovvisti di tessera del tifoso. A quanto pare, ieri il prefetto avrebbe addirittura ordinato la chiusura dei bottiglini della tribuna laterale per la giornata di domani, per limitare al massimo i rischi di infiltrazione di tifosi salernitani. Sullo fronte squisitamente calcistico per il match valevole per la ventisesima giornata della seconda divisione di Lega Pro, Perrone contro il Campobasso è costretto a schierare una formazione priva di alcune pedine fondamentali a causa di infortuni e squalifiche. Squalifica di un turno inflitta in settimana dal giudice sportivo uno dei pilastri della retroguardia Giuseppe Rinaldi. Per la sfida del nuovo Romagnoli, oltre agli annarilli, non ci sarà nemmeno l'esterno Manuel Ricci e il brasiliano Gustavo. Intanto già si respira l'aria del big match di domenica prossima in programma alla Rechi tra la truppa di Perrone e la seconda della classe Pontedera. I toscani, dopo il pari interno dei Granata, hanno accorciato le distanze in classifica ridotte a meno 6, in attesa del match verità di Salerno del 17 marzo, che probabilmente potrebbe già segnare le sorti del campionato.